Allora adesso saliamo giù, andiamo su di qua e andiamo fuori nel cortiletto lì dietro, dove è pronto per mangiare, anzi sarà bello pronto. In fianco alla tensiostruttura c'è il laboratorio messo a punto dal professor Prae dove si fa la verifica del crash test. Lo spiegherai lì sul posto, noi veniamo subito, adesso si va a turno a mangiare e veniamo a vedere il crash test. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.